Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, un minuto dopo le 11 di domenica 17 dicembre 2023, siete su R101 in radio ma anche in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona, saluto in regia il mio amico il Gran Maestro Pared MC, Matteo che è qui con me ad A Christmas Magic e con voi fino alle 13 siamo quelli del weekend. Tra poco torna il momento Quelli delle risposte con il grande libro delle risposte, intanto però la musica, ci sono i Kin.